Vivere il tempo della Quaresima in modo reale, senza formalismi, coltivando l'amore verso Dio e verso il prossimo. È la raccomandazione che Papa Francesco ha espresso nella cappella della Casa Santa Marta, celebrando la Messa. A tutti il Pontefice ha ricordato che bisogna distinguere tra il formale e il reale. Per il Signore, infatti, non è digiuno, non mangiare la carne, ma poi fare crescere l'egoismo, lo scruttamento del prossimo, l'ignoranza dei poveri. Ecco perché Gesù ha condannato i farisei, perché facevano tante osservanze esteriori, ma senza la verità del cuore. Quanti, quanti uomini e donne di fede, hanno fede, ma dividono le tavole della legge. Sì, sì, io faccio questo. Ma tu fai l'emosino, sì, sì, sempre io invio un assegno alla Chiesa. Ah beh, va bene. Ma alla tua Chiesa, a casa tua, con quelli che dipendono di te, siano i figli, siano i nonni, siano i dipendenti. Sei generoso, sei giusto. Tu non puoi fare offerte alla Chiesa sulle spalle della ingiustizia che fai con i tuoi dipendenti. Questo è un peccato gravissimo. E usare Dio per coprire l'ingiustizia.